Ciao a tutti, continua la presentazione dei candidati della lista. Rapinese sindaco. Bene, come ti chiami? Giorgia Mantero. Età? 19 anni. Cosa fai? Sto studiando chimica qua a Como e mi sto preparando per il test di medicina che avrò a settembre. Medicina? Sì. Sicura? Sì. Perché? Perché mi piace l'impazzire. Perché? Mamma mia, come vuoi piacerti l'impazzire la medicina? E sempre, cioè dai primi anni inizio è stato un mio sogno, poi adesso col fatto che comunque sono anche volontaria in Croce Azzurra, la ceva soccorritrice, questa cosa mi ha messo ancora di più passione, quindi... Vuoi diventare un medico? Sì. Medico di che? Chirurgo. Chirurgo? Il chirurgo è quello che usa il bisturi? Sì, esatto. Sempre? Sì. Martelli, seghe, tutto. Cioè, sicura? Sì. Bene. Cos'hai studiato alle superiori? Ho fatto il linguistico, ho studiato inglese, francese, spagnolo, tedesco e ho fatto un paio di mesi di russo. Russo? Casinata. Sì, molto. In un paio di mesi ho imparato solo l'alfabeto cirillico. Quindi un disastro, un disastro, un disastro totale. L'inglese come lo parli, Giorgia? Bene, sicuramente meglio di Renzi. Allora, se tu non parlasi in inglese è meglio di Renzi. No, infatti. Ti tolgo il saluto e ti butto fuori dalla lista. No, no, dai, bene. Bene. Lo studiato elementari, quindi... Sì, va bene. Penso che anche Renzi abbia studiato elementari. È una questione di cosa ti impegni. Ecco, ti prego. No, no, sì, sì. Ok, io non ti faccio cantare adesso in inglese qui davanti a tutti, però in inglese è meglio di Renzi, bene. Ottimo, che non vuol dire che tu lo sappia bene comunque, è meglio di Renzi. No, vabbè. Però, ok. Quindi abbiamo a che fare con una donna giovane innanzitutto perché sono 19 anni. Mi sembra che dura, tosta, perché per voler fare chirurgia e essere volontaria di 118. Sangue, capita. Sì, spesso. Non ti impressiona? No, assolutamente no. Zero, 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 zero. Va bene. Quindi donna, diciamo, sicuramente coraggiosa. Perché politica? Perché tu mi hai invitato a essere il tuo consigliere, mi hai offerto questa opportunità e io ho accettato ben bollettieri. Ecco, senza nessun dubbio. Palazzo Ciammezzi ti fa paura? Sì, ma sappiamo come affrontarlo noi tutti, quindi in realtà sono pronta. Fantastico, io temo questa sicurezza di Giorgia. Bene, bene, ottimo. Giorgia è la figlia di un candidato del precedente lista civica del 2012, adesso come? Come si chiama? Carlo Mantiero. Grande Carlo. Adesso Carlo l'abbiamo pensionato e ci siamo presi Giorgia. La prossima volta Giorgia pensiona a me, ti prendi mia figlia e continuiamo a ringiovanirci cercando di liberare la città dei partiti. Hanno amministrato bene i partiti in questi anni? Secondo me no, potevano far meglio sicuramente. Cosa pensi di chi continuerà a votarli? Che hanno un bel coraggio. Più del tuo? Sì. Decisamente. No, veramente. Grandissima Giorgia, continuiamo. Allora, potrebbe essere quindi che tra poche ore, io sono a Palazzo Cernezzi sulla sedia più alta, sai che c'è questa pedana dove sta la giunta, tu sarai consigliera e cosa mi chiedi? Allora, sicurezza, ad esempio stradale, perché io come molti giovani o comunque ne ho patentati, non è che girano con un SUV ma con macchinine come 500 così e diventa difficile per le strade di Como perché con tutte le buche che ci sono, cioè o sei un giorno sì e l'altro no dal carrozzere o ti compri un SUV. Esatto, no, che poi tra l'altro sarebbe bene che non ci comprassimo i SUV A perché inquinano di più, B perché sono la morte della mobilità, però penso che chi ha un SUV a Como oggi può divertirsi. Sì, 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 con l'assolutamente. Anzi, se lo gode, se lo gode come fare... Vengono per quello. Esatto, no, ma l'immagine, no, è vero, cioè avesse un gippone io a Como me la goderei di brutto perché sembra di essere... Quindi anche molte ironie da parte di Giorgia, perfetto, quindi strade sicure, non oso qui far ridere un po' meno, non oso immaginare quante volte ti chiamano per gente che si impasta grazie alle buche. Quindi anche questa è una faccenda proprio di decoro. Ma poi comunque anche l'ambulanza, il trasporto, voglio dire, hai un paziente traumatico, tu fai una strada tutta piena di buche, il paziente non è che... Ti ringrazia, esatto. Cioè si accorge di essere a Como? Secondo te in Svizzera? Io a Milano ad esempio, quando passiamo in quella zona lì è allucinante. No, no, non si contano in verità le zone dove il paziente... No, ma perché quella è la principale che facciamo più volte, quindi... Scendendo a Como perché voi siete sua... Sai che abbiamo, nel programma abbiamo detto, abbiamo apportato come gruppo politico una mozione a Palazzo Cernezzi per far sì che Croce Azzurra non paghi nulla di canone? Mi sembra il minimo. Sì. Anche perché gente come Giorgia, tu cosa fai? Abbassi le tasse la gente, perché se dovessero pagarti invece che essere volontaria... Esatto. Ecco, l'amministrazione Lucini non l'ha ancora fatto, noi appena a Palazzo Cernezzi, il canone di Croce Azzurra, lo stracciamo così come di chiunque faccia del bene alla città. Cioè, incredibili e questi abbassano le tasse. Sei d'accordo? Sì, completamente d'accordo. Quindi, adesso continuiamo sul tema però perché la gente vuole sapere. Hai detto che la sicurezza sulle strade sarà un tema sul quale non transigerai e pian piano magari inizierai a sentire. Magari non riconosci più la città da dietro. Eh, infatti, infatti. Esatto, non capisci più la città. Poi? Poi comunque la sicurezza in generale perché a me sembra che da quest'estate, quando c'è stato l'evento dei clandestini su San Giovanni, che non ci sia tutta questa sicurezza a Como, che stia andando un po' allo sbando. Che si può fare un po' quello che si vuole. Esatto, esatto. Una Disneyland. Non erano controllati, non si sapeva chi fossero e quindi... E poi comunque anche l'illuminazione, che anche questo ci mette del suo perché, voglio dire, non sai chi c'è a Como, c'è al buio, non è proprio... Certo, a 19 anni io avrei paura. Sì, e giro col peperoncino in borsa io. Questo dà la misura di cosa vuol dire? Cioè, viviamo in una città dove una ragazzina, ragazza, una donna giovane per circolare si sente sicura con... Ci sono altre persone che lo fanno? Sì, delle mie amiche, sì. Questa cosa deve finire, no? Sì. Un po' di controllo. Se dovessi diventare un sindaco duro in questo, mi apprezzeresti? Sì, molto, ma penso anche a molte altre persone. No, no, non se ne può più, non se ne può più. E questo te lo posso assolutamente garantire. Bene, il tempo sta passando, l'ultima cosa di Como che miglioreresti, cosa ci vuole? Secondo me posteggi perché è una città in ospitale, nel senso che la gente arriva e dice dove metto la macchina? Eh, bella domanda, perché posteggi... Anche perché quei mezzi pubblici ce ne sono sempre meno. Eh, no, tra l'altro... Investi... Fossimo a New York, capisco, no? Esatto, tutti comodi, ma metropolitana... Ma anche Milano ti muore e si dice esci, vai in metropolitana a Como, o prendi la macchina e ti costa un buon peso. Si riesce ad arrivare in centro città, mi sono le buche, trovi posteggio, non si sa... Quanto costa un affoglio, bene. Va bene, io direi ottimo. Allora, al di là degli aspetti politici e della... Giorgia a me piace tantissimo, nel senso che è ragazza determinata, dura, fai un sacco di volontariato alla fine, di conseguenza, e in verità vuoi occuparti del prossimo anche di lavoro. Quindi, benissimo, sono molto contento di avere Giorgia in squadra, ringrazio Carlo della sua esperienza, ma secondo me siamo andati a migliorare. Speriamo. Dici che si offende? No, dai, non la toglierai al mio papà, no? Grande Carlo, stiamo scherzando, o comunque sia... Adesso, io sono contentissimo che Giorgia abbia accettato. Quindi, questo, e voglio portare Giorgia a Palazzo Cernezzi, per portare Giorgia a Palazzo Cernezzi però abbiamo, e dobbiamo fare una cosa, a trovare tanta gente che metta una croce su questo simbolo e scriva... Mantero. Mantero. Di conseguenza, da scrivere è semplice, Mantero, parla l'inglese, pure meglio direzzi, che cosa volete di più? Grande Giorgia. Grazie. Sono contentissimo e ci vediamo presto con il prossimo candidato.